musica 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 mi labbra ci siamo? certo che ci siamo anche già registrati ah perfetto ciao pensavate che non saremmo ritornati eh già questo ritardo mi aveva fatto pensare avevano sperato di e invece no se la vendetta si è un ritardo però non fa niente comunque mezzo mese 8 8 8,9 comunque iniziamo su via e niente benvenuto nel nostro canale nel nostro canale ormai questo è un nuovo attente a quelle due 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 la vendetta bravo e quindi niente a settembre la vendemmia l'ultimo video che faccio per lei l'ultimo video che faccio per lei la vendemmia a settembre sono preoccupata me ne vado non è tutta la volta che faccio i video con te un becchetto e niente il trucco più usato del mese da me su di lei e viceversa ormai lo sapete se vi interessa vedere il primo no ve lo lasciamo e giù o qua lo trovate poi controllatelo siamo andati in giro si si è andata un poco meglio e quindi lasciamo il tutorial la fine poi facciamo così ciao 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 ah eccoci guardate che veloci ma non siamo joel siamo truccatele un attimo siamo truccati che stupide ma tu lamenti E cominciamo con i prodotti che abbiamo utilizzato, cominciamo sempre con la base, ho utilizzato un Supracolor di Criola, un correttore aranciato che avete, FS8 Io invito, ah già è vero, scusa deve finire, per smorzarlo il Garnier Hollande questo qua, questo qua, la stronzatina giusto per smorzarlo, però è molto aranciato, è figo, va di subito, infatti quello me l'hai messo, ah, è questa cosa, è fresca Io invece ho usato sempre gli stessi perché io non ho comprato altri correttori, nel senso che ho questi, uso questi per il momento, quindi ho comprato, ho comprato, ho usato il full coverage di Kiko, il numero 3, non voglio ciecare, eccolo qua, che è più aranciato praticamente, è la tonalità più aranciata di questi E poi per smorzarlo ho usato lo stable dei 16 ore della Essence, è fairo, molto fairo Fondo, Kiko Medium Foundation, questo qui io non ho mai capito che numero è, è B3 B3 sta scritto, B3 sta scritto, B3, fondo per Sara Ok, io invece ho usato la BB Cream della Garnier, questa per pelle grasse, e devo dire, per le miste grasse, questa è la tonalità light Eh, perché per me, per lei andava ben altro nella media, dobbiamo dire, però per me, insomma, light va più che bene, mozzarella e lo vide, e quindi devo dire che questa, invece, è molto molto buona Sì 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 No, non è vero No, questa è buona, rispetto alla Garnier, quella normale, questa è figa, quindi questa col tubetto così È molto meno lucida Poi Tutti e due con questi fondi cipria Sì, noi abbiamo usato praticamente niente, cipria, ho finito la Fix & Matte di Essence, la translucent, non si vede bene Veramente, questa è d'applausi quando la finisce, penso che si è attaccata questa, perché non si muove Eh sì, si è seccata, forse Vabbè, comunque è quasi finita Sì, sì 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 Io invece ho usato questa qua, sempre Fix & Matte, però praticamente la combatta, che è terribile È farina Eccola, vedete però la sto finendo, mi sto impegnando Sto impegnando Prima di iniziare ad usare quello dell'Avol Invece non ho usato la base, bisogna utilizzare questo Long Lasting di Kiko, che è il numero 47, questo qui blu elettrico, e li ho messo di base, insomma, di base è qua Sì, è sotto tutto Sì Vabbè Io invece ho usato, infatti me la potevo rifarmi alla base, vabbè, non fa niente, ho usato Sì, 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 infatti Questo ombretto in crema dell'Astra, che non hanno numeri, per cui non vi posso dire qual è No, ce l'ha il numero Ce l'ha il numero? Forse è 30, non lo so Non ce l'ha Sei sicura? Mi pare di sì 41 Dove sta scritto, scusami, togli una curiosità Ah, qua sotto Eh Non è vero, perché mi sta scritto 36 Ah, questo adesso non lo so Comunque Questo qui, Borgogna Di Astra Di Astra, non è che ha tanti Borgogna, quindi è l'unico Borgogna Non vi potete sbagliare 3,50 euro ed è bellissimo, veramente io l'ho usato tutto il periodo di marzo È proprio bello, sui occhi verdi è fantastico, veramente bello Quindi questo come, come base Poi, sopra al blu io ci ho picchiettato questo pigmento di Kiko che è il numero 03 Ed è tipo Radiant Orchid, Violetto, questi fatti così E quindi sopra al blu fa un colore un po' particolare che è davvero carino E quindi mi piaceva tanto abbinarlo e quindi ho usato questo qua Assistente, io però ho dimenticato la paletta Assessore, eccolo qua Ho usato il Beauty Book della Elf, che è molto molto carino, devo dirvi la verità L'unica cosa inutile sono queste spugnette L'applicatore con le spugnette che non serve praticamente a niente E ho usato praticamente il Borgogna per andarlo a tamponare sopra l'ombretto in crema E poi, diciamo, sono andato a sfumare l'angolo esterno per intensificarlo Pure un po' nella piega questo marroncino Questi praticamente sono totalmente matte, sulle due grigi sono shimmer Quindi, no, è una bella paletta E questo qua bianco, bianco, panna L'ho messo praticamente sotto all'arcata Quindi, carina Sotto all'arcata io ho messo questo qui di Kiko Che è il 167, un bianco matto proprio semplicissimo, sticarissimo E per sfumare invece tutti i colori tra di loro Per non fare questo stacco tra il blu e il bianco Ho utilizzato questo ombretto tipo top Proprio così 049L Ice Pupa Questo qui che è un bianco da shadow Quindi è un ombretto cotto Comunque questo Cotto è cotto Cotto è cotto Oh, vai No, come matita abbiamo usato la matita Cioè, il mio Batitone casual della Miss Rose Nero Eeeh, che bello E' sporcata Sì Va bene, comunque questo, guardate Questo E poi lo sono andato a sfumare sempre con il color Borgogna Della Valette E' una cosa molto sfumata, molto sexy Un po' sexy Poi, io come eyeliner ho utilizzato questo eyeliner di Criolano Che è in cake si chiama Ed è black E' quello là nero Però vabbè andrà bene qualsiasi eyeliner Io ho utilizzato questo giusto perché Si è sparcata Io ho utilizzato questo giusto perché non macchia Perché essendo che lo devi Essendo che va bagnato Parliamo italiano Essendo che va bagnato non si macchia Capito la password Quindi per questo ho usato questo E io invece ho usato l'eyeliner Oggi Elf con la palla L'eyeliner in gel dell'Elf Io mi sono trovata molto bene L'unica cosa che se voi amate l'effetto lucido Questo non è lucido, è matte Quindi... Però è bellino, è figo e mi piace Costa poco, le cose dell'Elf costano poco Vale la pena probabilmente Si Poi Stessa cosa tra di noi Stessa cosa abbiamo utilizzato Il better than sex Di Too Faced Questo qui rosa Questo qui Perché ho dimenticato il maschio Sabe se non scorda qualcosa Niente Sabe comunque abbiamo utilizzato questo qua Tutte e due che è molto figo Comunque avrei usato l'eyel of extreme della essence Nel cazzo Lo ricevi te lo prendevo Ecco Ecco qua Vedi Vabbè E' stato più carino fare una cosa in due Si dai Poi che altro abbiamo utilizzato Ah si Per fare il contouring ho messo prima quest'altro supracolor sempre di Criolan Che è lo 040 giusto per cominciare a fare questo E poi l'ho tamponato con il bronzer di Astra Questo qui Che è lo 04 E' sempre matti Ma direi che non ci avete brillato Vedi che c'è il buco Si 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 Vabbè ma questo io sono triste però che c'è il buco Non sono contenta Sono molto triste per questa cosa Io mi chiedo da me Non ci credo Non ci credo Questo sono meno contenta che c'è il buco Ho usato nel blush e come contouring ho usato la terra Questo appunto contouring blush e bronzer della elf Che è un duo molto simpatico e da portare in giro è proprio carino Bello Questa è la tonalità più chiara è veramente bellino Vedete nel blush io lo uso praticamente quasi tutti i giorni Si è fatto proprio il buchetto Qua si sta per fare quindi Stiamo proprio Sto arrivando alla fine Sto arrivando alla fine Però è bello Quindi lo riacquisterò sicuramente Io come blush ho utilizzato questo qui di NYX Che è il 08 8 pink ed è in crema Quindi dato che ho fatto il contouring così Ho prima picchiettato e poi sono andata a stenderlo con pennella Anche perché questo è un fucsia molto forte Quindi è sempre meglio sfumarlo Eh sì sì E poi l'ultimo rossetto Yes L'ultimo prodotto usato da me è questa tinta della Maybelline Che non so proprio perché si è cancellato tutto Comunque È un viola Non li so dire È un borgogna Comunque Questo dark queen Sì sì È praticamente Veramente Non si toglie Cioè Si è calantissimo Infatti appena si è asciugata Mi ha messo il lip gloss Sì 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 Tipo vampiro No è proprio bella Io mi trovo bene È bella è vero È pure un bel colore E io invece ho utilizzato Questo qua che l'ho utilizzato tutto il mese Il 003 di Ghico Di la nuova collezione Però con il line stick Questo qui che assomiglia molto all'allfare ed up di MAC E quindi è molto più economico Ed è anche fico comunque Molto carino E quindi abbiamo finito Non ci siamo dimenticati niente No E poi ci siamo scordati Eh non so C'è qualcosa che no No Quindi siamo stati brevi Combrati no Veloci Veloci proprio Concise Le pile sono durate Infatti Se vi ricordate lo scorso video abbiamo avuto dei problemi con le pile allucinanti E invece erano le pile tranquillissime Sì infatti Questa volta ci avevamo la scosta Sì infatti Questa è quasi durata La volta scorsa avevamo 20 Bravo E dovevo consumare tutte e qualsiasi Infatti Molto molto bene E quindi niente E quindi basta 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 Adesso basta Adesso un'altra volta il mese prossimo la voglio vedere Eh sì Un'altra volta il mese prossimo torniamo È inutile che viviamo Torniamo già Che vi pensate tranquilli C'è scherzava prima che diceva Non è che sono scherzate La bastida è la vendimia Ma torneremo Sì È una minaccia sempre Sì 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 È una minaccia Quindi all'inizio di maggio Maggio Sì Maggio Faremo i preferiti di aprile Yes Il trucco di aprile Attenti a quelle tre A quelle tre Che è la testa Che è la testa Dove sta la ticci Che è la ticci Che è la ticci E sta dietro a borsa E sta dietro a borsa E con la borsa sua Dicci la vetta Lo volevi soffocare Nooo Assassina E comunque niente Noi speriamo che il trucco vi sia piaciuto Che questa è la nostra idea Di continuare Questa è la nostra idea Vi sia piaciuto Ma tu di continuare Sì perché uno che ci baci una volta Vabbè quello è per sevelare Diabolico E quello è il problema Perché è rare È umano È umano E basta Noi sentiamo molto latine Sì sì Abbiamo truccato tutto il tempo Con onda latina Quindi abbiamo truccato A tempo di calza e di baffata E di rossicamenti vari Per i fisici di queste tizie Sì stavo dicendo proprio una brutta parola Menomale che ho detto fisici Ecco Ma veramente sono dei fisici puli Ma ecco Siamo saltetti in basile Ma che sta schifezza Ma come fanno ad averli così Ma sicuro gli puzzano i piedi Si eh L'alito C'è un problema ce l'hanno È più forte Possibile Non può essere Certo Non è effettibile E quindi niente E quindi basta E quindi basta Ce ne abbiamo giuro Ce ne stiamo andando Ok Speriamo sempre come al solito Che questo video vi sia piaciuto Fatecelo sapere giù nei commenti nei commenti nei commenti nei video mio Qualsiasi perfettità Non esitate a commentare No 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 Rispondiamo Rispondiamo a tutti E basta E basta Quindi mandiamo Un bacio enorme E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao